Raffaella Belfiore, parte anche quest'anno la campagna del Corpo Gav contro l'abbandono degli animali. Qual è il vostro messaggio? Sì, come ogni anno noi ci prodighiamo per ampliare quanto più il messaggio che è contro l'abbandono degli animali, assolutamente. Abbiamo purtroppo ancora un record negativo in zona, per cui da sabato scorso abbiamo cominciato con questa serie di eventi che vedono appunto la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza contro questo tristissimo fenomeno. Non me la sa, non te lasse mai, lo slogan della vostra campagna, questo fenomeno purtroppo è ancora diffuso. Esatto, non me la sa, proprio perché i nostri amici non ci lasciano mai. Il fenomeno purtroppo è ancora diffuso, anzi non c'è a calare, è diminuito e non è più soltanto un fenomeno estivo, ma è diventato una costante per tutto l'anno. La vostra campagna gode anche del patrocino del Comune di Torre del Greco e dell'Asla Napoli 3 Sud. Esatto, infatti ci teniamo a ringraziare sia il Comune di Torre del Greco che l'Asla Napoli 3 Sud per il patrocino che ci ha dato anche quest'anno per questa iniziativa. Ringraziamo anche l'Onorevole Patriarca che non manca mai di sostenere le nostre iniziative e di complimentarsi con noi. Ma questa non è l'unica iniziativa della vostra associazione, soprattutto per il periodo estivo. Esatto, da questa iniziativa parte anche la campagna di raccolta alimentari e di medicinali, tutto quello che può servire per i nostri amici a quattro zampe. E con queste scodelle offrici da bere? Sì, invitiamo un po' tutti i negozianti a porre all'esterno dei loro negozi queste scodelle. Non costa nulla offrire un sorso d'acqua, però sicuramente si dà un po' di aiuto a quelli che sono animali, che eventualmente non soltanto randagie, ma anche animali che si trovano lì a passeggio con i propri padroni. Leggiamo un altro slogan, chi raccoglie semina civiltà. Sì, purtroppo, credo che sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo un fenomeno costante, quello delle deiezioni canine abbandonate ovunque, che danno non poco fastidio alle persone che devono passeggiare, devono camminare per strada. Quindi vi preghiamo, quando si portano i cani a fare i bisogni, munirsi sempre del sacchetto, di paletta, di quello che è necessario per raccoglierla. Grazie a tutti.